Gesù aveva finito di soffrire. I Romani usavano lasciare i cadavere dei contannati appesi alla croce, preda delle fiere e degli uccelli di rapina. Gli ebrei invece, secondo la legge, dovevano seppellire il contannato nello stesso giorno della sua esecuzione. Se quindi il cadavere di Gesù avesse dovuto restare sulla croce più a lungo e proprio il grande giorno di Pasqua per essi non poteva riuscire, che è doppiamente spiacevole. Chiesero dunque a Pilato l'autorizzazione di rompere le gambe dei crocifissi per affrettare la morte. E noi sappiamo che vennero rotte le gambe al buon ladrone e al cattivo ladrone, ma a Gesù gli fu dato soltanto la lanciata al cuore perché già era morto. Ora entra corregiosamente in scena Giuseppe d'Arimatea che ottiene da Pilato la sepoltura di Gesù e la sepoltura di Gesù fu solenne, affettuosa, con le lacrime agli occhi. Quelle piedonne, la madre sua, avevano perso Gesù, ma lo tenevano ancora in mano, lo toccavano, lo pulivano, lo lavavano, lo baciavano. Era il loro Gesù. Giuseppe d'Arimatea appare dunque sul luogo del supplizio con le autorizzazioni del procuratore di Pilato. Ora gli amici di Gesù hanno mano libera, si fanno largo tra la folla e si avvicinano alla croce. Quale commozione nel trovarsi davanti all'amato maestro morto, ridotto in quello stato? Gli uomini si mettono tosto all'opera per calarla dalla croce, salgono sulle scale, sciolgono la corone di spine dai capelli intrisi di sangue, cavano uno dopo l'altro i chiodi che fanno scendere dolcemente quel sagro corpo. Tutto con cura amorosa e con profonda e commossa reverenza, scendi dalla croce gli avevano ingiustamente gridati i suoi nemici. Egli non discese, perseverò fino a che il sacrificio fu compiuto e la volontà del padre soddisfatta. Ora portata a termine la grande opera, egli scende dalla croce e lo fanno scendere con santo rispetto e amore. Scendi dalla croce, liberati dai legami che opprimano il tuo volto, che opprimano il tuo corpo. Così dicono spesso anche, diciamo spesso anche noi, nelle nostre passioni, nell'ora della tentazione. Così ci grida con disprezza e con losing il mondo. Non lasciamoci sedurre, perseveriamo sulla croce della nostra vita religiosa e sacerdotale. Come l'amore per noi trattenne Gesù sulla sua croce, così l'amore per Gesù deve trattenere anche noi sulla nostra croce, finché con lui possiamo dire tutto è compiuto. Allora anche per noi sarà pieno di pace il momento in cui la mano di Dio ci porrà sulla croce. Come è bello morire, dice, il santo curato d'Ars, come è bello morire quanto si è vissuti sulla croce. Preghiamo ogni giorno per ottenere la grazia di perseverare fino alla fine. La grazia della perseveranza è il magnum donum, come si esprime la Chiesa. Il grande dono che sigilla la nostra passione su questa terra. L'immagine di Maria con Gesù morta sulle ginocchia è quanto mai cara al popolo cristiano. Ogni dolore porta i fedeli alla madre dei dolori. Ogni dolore diventa piccola di fronte all'eccesso del suo dolore. Ogni dolore è illuminato dal suo dolore. La Maddalena e la Madonna addolorata ci danno testimonianza di un amore vissuto e sofferto.